Questo video giocosamente, con una grafica che fa ai primi momenti della digitalizzazione, ha riassunto un po' quello che è stato quest'ultimo anno di tempo. Questo è quindi veramente privato di ringraziare tutto lo staff interno all'università, ma soprattutto tutte le camere di commercio dell'azienda speciale e Digital Promoter, perché questo è un progetto che nasce al contrario, è in maniera difficile a volte per le istituzioni e questo veramente va al mio centro di grandi gratitudini, perché abbiamo fatto una decisione tutti insieme, visto che si andava a indagare un ambito diverso, insidioso, abbiamo deciso di fare quello che non si fa di solito, di prenderci il tempo per lavorare, per studiare e per poi cominciare a parlarne. Quindi noi abbiamo pubblicato oggi o questa giornata il sito PITME con una metodologia che adesso vi racconterò di come siamo andati avanti, di come intendiamo procedere per il 2019 dopo aver fatto una serie di incontri con le associazioni di categorie con le aziende sul territorio e in qualche modo oggi ci possiamo dire di aver messo a punto un metodo che potete vedere quest'oggi ma anche nel sito e tutte le sue sezioni. Ma torniamo indietro, noi partiamo dal piano nazionale Impresa 4.0 che ad oggi offre moltissime possibilità alle imprese del territorio proprio per garantire la possibilità al tessuto socio-economico di fare un salto in avanti dell'adozione di quelle che sono le tecnologie di 4.0. E questo è lo spot, e qui sembrano tutte buone notizie, tuttavia il primo problema che abbiamo dovuto riscontrare mentre incontravamo le imprese e cominciavamo questa avventura è stato questo, nel senso è stato il problema che molte imprese ci dicevano 4.0 che c'è nel senso che mancava proprio l'idea, noi operatori abbiamo riscontato questo concetto di 4.0 sia immediatamente comprensibile, anzi di più, in più delle volte qualcuno c'è anche beffeggiato, ma mi si è dimenticato il 3.0 nel frattembre pensando che per 4.0 si indicasse un'evoluzione del web 2.0, non del web partecipativo. E nulla di tutto questo, 4.0 sta per indicare la quarta rivoluzione industriale, ma non vi farò la lezione su questo, è per dire che dove per prima intendiamo la prima, diciamo l'automazione sul vapore, quindi la nascita delle prime fabbriche, diciamo tessili alimentate al vapore, poi la seconda con l'introduzione dell'elettricità, quindi inizia la catena di montaggio, le linee di produzione di massa, la terza rivoluzione industriale nel fine degli anni 60, avviene con i computer e quindi con i primi sistemi di automazione, quindi attenzione quando parliamo anche di automazione, robotica eccetera, le tecnologie 4.0 non nascono oggi, è il termine che è il nuovo e che la chiude una serie di classe tecnologici, mi piace raccontare sempre in giro per l'Italia che la prima fabbrica totalmente automatizzata è data a Melfi nel 1980, quindi anche qui Sud, come diceva il Presidente, è stata diciamo una vanguardia, ma cosa è cambiato oggi? Perché pur includendo queste tecnologie parliamo di una quarta rivoluzione industriale, è cambiato il fatto che gli individui e non solo gli individui sono connessi in maniera sempre più notevole, quindi più del 50% della popolazione mondiale è online, ma soprattutto abbiamo quasi 9 miliardi di dispositivi collegati e questo numero ogni giorno aumenta sempre di più e quindi sono tutte entità che immettono informazioni, quindi dati, quindi pezzi di realtà all'interno di questo buscio che avvolge il reale, che il nostro amico Luciano Floyd ha chiamato infosfera, quindi proprio questa dimensione che avvolge il reale con tutte le terminazioni, tutte le informazioni che in maniera a volte consapevole, quindi quando twittiamo su Facebook, su Twitter, su Facebook, a volte è inconsapevole, cioè già il nostro essere in questa stanza sta rilasciando dati, questi dati possono essere in qualche modo utilizzati e utilizzati per prendere decisioni, quindi se dobbiamo riassumere un po' il concetto di quarta rivoluzione industriale è proprio questa capacità di sfruttare l'interconnessione tra agenti, siano umani che dispositivi delle macchine, trasformare quindi attraverso meccanismi di intelligenza anche artificiale queste informazioni tale da poter generare delle scelte, quindi movimento e impatto fisico, quindi questo 4.0 mette insieme la dimensione immateriale con quella fisica materiale e quindi uno dei concetti, diciamo il concetto di base è un po' quello dell'internet of things, diciamo che ha caratterizzato questo tipo di rivoluzione. The efforts for improving the productivity and efficiency have never stopped under the roof of industrial enterprises. This endless race for being better gave chance to three big revolutionary steps initiated by disruptive technologies. First the steam engine, then electricity, finally the computer, all revolutionized the way we work. And now the internet of things ignites a fourth one. The internet of things is a concept that projects expanding the internet to anything where a connection can be established. In the search of this fourth revolution, industrial enterprises embraces internet of things and are making their entry into the connected world that we call industrial internet of things. Shortly IIoT. It's about connecting machines, then factories, then enterprises and finally all supply chains. Collecting, analyzing, processing the big data and using it securely within the value chain in real time. It's data driven and smart world where decisions are faster and more rational. Actions are more efficient and real time. Actions are more efficient and real time. Factories are smarter. With machines talking to the entire world, learning and continuously optimizing each other's performance. Smart factories, they require smart machines. With our product, Machine Cloud, we make your machines connected, smart and industrial internet ready. Machine Cloud by I40 enables machine manufacturers to take their place in the IIoT. So the world and be aligned and be aligned in the big movement for the fourth industrial revolution. Quindi come vedete, il concetto dell'impresa 4.0, dell'industria 4.0, dell'andist 4.0, poi tradotto in Italia giustamente con l'impresa 4.0, fa ricadimento molto a quest'idea di smart factory. Un concetto che, tenete un attimo a me, dopo lo approfondiamo, che forse mal si cala in quello che è il nostro tessuto socio-economico. Quindi l'impresa 4.0 classerizza, quindi fa riferimento a questa quarta rivoluzione industriale, e classerizza nove class, diciamo, di tecnologie che a molte quindi sembrano lontane da quelli che sono gli utilizzi e le necessità delle piccole e medie imprese del nostro tessuto economico. Quindi, così come 4.0, ci ho detto 4.0 che, immaginatevi quando siamo andati a parlare dai produttori di pomodoro San Marzano, di robot di intelligenza artificiale, hanno preso i cani e ce l'hanno sciolti dietro. Però, facendo un discorso al contrario, raccogliendo, poi vedremo quali sono i loro bisogni e le loro necessità, abbiamo trovato delle applicazioni che in qualche modo potevano risolvere i loro problemi. Quindi, dietro questi classer tecnologici, si tratta di andare oltre le fascinazioni dei film e della fantascienza. Quindi, quando parliamo di robot, non parliamo necessariamente soltanto, diciamo, di cyborg, ma parliamo anche di quelli che sono definiti a volte cobo, cioè che sono dei sistemi, diciamo, di automazione che possono aiutare, no? Quindi anche le imprese in attività magari particolarmente alienate. Qui vediamo una delle possibili applicazioni dove c'è un robot che aiuta una piccola empri di sapere un'attività, vedete, l'uomo lo aiuta per un'attività particolarmente, diciamo, alienante. Ma quando parliamo così come... Grazie.